Il perimetro della vigilanza consolidata Il perimetro della vigilanza consolidata Ma comunque rientra Certamente sotto il profilo della vigilanza ispettiva E di quella informativa All'interno del perimetro della vigilanza consolidata Ora questa non è una cosa nuova nel gruppo bancario Perché da sempre la vigilanza consolidata Non ha coinciso con il gruppo in senso imprenditoriale Questo non è quindi una novità È normale che ci siano all'interno del gruppo Come due diversi sistemi informativi Uno che collega la capogruppo Alle società controllate All'interno della direzione coordinamento E l'altro che le collega Per quanto riguarda invece la vigilanza consolidata A volte società sono collegate Per entrambi i canali informativi Altre volte soltanto per uno Quello della vigilanza consolidata È il caso dei soggetti A cui vengono esternalizzate le funzioni Quindi È evidente che quando dico che rientrano Nella vigilanza consolidata Significa che vi rientrano sotto un aspetto particolare Per esempio I loro bilanci Debbono essere comunicati alla Banca d'Italia Ma non vengono consolidati Nel bilancio della capogruppo Evidentemente La Banca d'Italia può effettuare Delle ispezioni Presso le sedi Dei soggetti A cui sono esternalizzate le funzioni importanti La Banca d'Italia Può richiedere documenti e informazioni Può convocare amministratori E non solo Dei soggetti esternalizzati Allora il soggetto Rientra appena titolo Nei flussi informativi Che riguardano la vigilanza consolidata Il che vuol dire anche un onere Per il prestatore di servizio Di un certo tipo Ma vuol dire anche porlo sotto A chi? Alla capogruppo del gruppo bancario Non per quanto riguarda L'attività di impresa Chiaramente Di direzione e coordinamento Ma invece per quanto riguarda Tutte le istruzioni relative A come adempere gli obblighi E flussi informativi Relativi Alla vigilanza consolidata Quindi È da questo punto di vista Che il soggetto Prestatore di servizio Rientra nel perimetro Della vigilanza consolidata Perché è sottoposta A vigilanza informativa E a vigilanza ispettiva Perché deve comunicare Le informazioni E perché deve seguire Le istruzioni della capogruppo In tema di vigilanza E basta Perché altrimenti Rientrebbe a pieno titolo Nel gruppo E non è questo invece il caso Ora In alcuni casi però Vi sono dei soggetti I quali Sono prestatori di servizi Non solo per un gruppo bancario Penso ai casi Delle banche di credito cooperativo Le quali spesso Hanno dei consorsi E quali esternalizzano Diverse funzioni operative Importanti E allora Qui in realtà Il consorzio Comincia adesso Ad avere come referenti Diverse società Con le quali Deve aprire Dei canali Dei flussi Informativi Per far sì Che poi queste Possono comunicare Possono diciamo Effettuare la vigilanza consolidata La raccolta delle informazioni Ed eventualmente Veicolarle Alla Banca d'Italia Beh può non essere Così semplice Perché il rapporto Non può essere di massa Io ho 50 BCC E faccio per tutte La stessa cosa Ognuna potrebbe avere Delle procedure Parzialmente diverse È vero che molte procedure Sono per forza uguali Perché sono affidate In esternalizzazione Però potrebbe anche Non essere così Secondo aspetto Nelle Diciamo Esternalizzazioni Di funzioni operative Importanti La banca che esternalizza Deve comunque Deve comunque Mantenere In house Le competenze Esternalizzate Perché questo? Perché lei È il primo soggetto Che deve controllare Che l'attività oggetto Di esternalizzazione Che quella funzione Sia correttamente svolta E può farlo soltanto Se ha le competenze Ma soprattutto E questo è un aspetto Che vediamo Nel contratto Sarà molto delicato Deve avere La capacità Di re-internalizzare Ciò che ha Esternalizzato Quindi Deve potersi Riappropriare Quando lo ritiene opportuno Cerchiamo di capire Che significa Di ciò che ha dato In outsourcing Allora Qui mi avvicino Ad alcuni aspetti Contrattuali delicati Perché vedete Riprendersi una cosa Vuol dire Recedere dal contratto Vuol dire Recedere E regolare Questa clausola Di recesso Tra la banca E il prestatore Di servizi In modo tale Che la banca Possa Vediamo secondo i quali Presupposti Recedere dal contratto E rinternalizzarsi Le attività Chiaramente anche Con dei danni Per quanto riguarda Il prestatore di servizi Se questo recesso Chiaramente è anticipato Rispetto al termine ordinario Del contratto Ma questa clausola Di recesso Deve essere ispirata Dalle religioni di vigilanza Non sarà facile Scriverle Perché ci sarà Comunque un giudizio Arbitrario Unilaterale Perché non si potrà Andare ad un arbitrato Per decidere Perché il tempo passa Se la funzione Antiriciclaggio Che è stata esternalizzata La banca Reputa Che non è più All'altezza Dei livelli Di alcuni livelli Di rendimento E quindi decide Unilateralmente Di ricevere il contratto E di riprendersi La funzione Non so quanto sia facile Scriverla questa clausola Diciamo nel contratto Però è ispirata Certamente A motivi Di vigilanza Un altro aspetto È quello Della responsabilità Allora Qui la regolamentazione Sembra Sempre considerare La responsabilità Del prestatore Di servizio Verso l'autorità Di vigilanza Ma esiste anche Una responsabilità Verso l'esterno Cioè verso i clienti Pensiamo alla funzione Di antiriciclaggio Che è una delle più delicate Pensiamo che Il soggetto Prestatore di servizio Non compie In maniera Adeguata L'identificazione Del titolare effettivo Il cliente si lamenta Perché ritiene Di aver subito Un danno Anche perché Guardate oggi C'è il terrore Di chi fa Antiriciclaggio Delle sanzioni E qui normalmente Si dice Il più È nel meno Se ho un problema Su un titolare effettivo Che non sono molto sicuro Comunque ce lo scrivo Prendiamo i casi Di fondazioni straniere Anstalt O Stiftung Le quali Le quali hanno Come beneficiari Dei clienti italiani Che aprono dei conti correnti O altro La banca indaga Vede che c'è la fondazione Deve individuare Il titolare effettivo Di questa stiftung Per esempio Di questa fondazione Che magari sta per effettuare Un bonifico in Italia Perché il cliente beneficiario Riceve dei redditi Ed è un po' Nell'impasca Che non sa bene Chi è il titolare effettivo Di questa posizione Si fa dare il nome Dei beneficiari Per esempio Sono 5-6 beneficiari E li mette tutti quanti Nella dichiarazione Del titolare effettivo Pensando Ma comunque Anche se qualcuno non lo è Comunque io gli comunico Tutti quanti Ma mica ha detto Che questa è sempre La politica giusta Perché chi fa L'antiriciclaggio È chiamato Di una collaborazione attiva Della normativa Il che vuol dire Eseguirla correttamente Se io riempio Gli uffici Di informazioni superfili Non è detto Che le seguo correttamente Certo Uno riflette Però l'ufficio Non mi verrà mai A dire che gli ho detto Troppe cose Ma magari il cliente sì Queste informazioni girano Magari vanno All'amministrazione finanziaria Che mi fa un accertamento Che mi dice Ma tu sei titolare effettivo Della fondazione Non hai dichiarato Il tuo modello Di monitoraggio fiscale Ma io non lo so Non rispondo io Ma tu come lo sai No? Ecco Allora Quando il cliente però adesso Agirà contro il soggetto A cui è stata esternalizzata La funzione E chiederà Conto E agirà Per la responsabilità Potrà agire anche Verso la banca Che la funzione L'ha esternalizzata Perché Sapete La comunicazione Se La comunicazione È che la banca È comunque sempre responsabile Verso l'autorità di vigilanza Secondo me è responsabile Anche verso il cliente Non avrei dubbi su questo Anche perché dovevi controllare E lo prevede L'autorità di vigilanza Che dovevi controllare Grazie 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 Grazie